eccoci amici di milan punto soccer si se fosse una musica sarebbe proprio questa allegro andante a volte trattenuto e si di chi sto parlando adesso ve lo dico prima però lasciatemi dire che questa musica no il video non sarà bloccato perché nessuna violazione copyright sotto link in descrizione potrete andare a vedere il sito un sito di importante dei fox che vi permette di scaricare musica copyright free di tutti i tipi western classica horror qualsiasi e mi raccomando usate poi per poter iscrivervi il codice che trovate sotto perché vi da 45 per cento di sconto e quindi posso usare questa musica per parlare del sindaco di san donato milanese a lui è un trattore lui ha preso la possibilità di rimanere oggettivamente nella storia di un comune dell'interland milanese a proposito so che avete visto e apprezzato il video in cui ho intervistato l'assessore alla cultura di milano sullo stadio ho fatto diciamo così un excursus per come dire definire in maniera chiara come oggi avremo san siro ex novo senza nessuna necessità di limi senza nessun limite da parte del ministero dei ministeri della sovraintendenza insomma per chi non sa di cosa sto parlando metto alla fine di questo video il video di cui dico allora il sindaco di san donato è tornato a parlare il tema dello stadio è molto complesso e articolato assorbe sicuramente molta attenzione perché il suo sviluppo condizionerà il futuro di san donato e quindi ogni valutazione e questo mi sembra mi sembra responsabile richiede molti approfondimenti e analisi tuttavia non viene distolta l'attenzione all'ordinaria amministrazione del comune che non può certo fermarsi di fronte a un progetto di iniziativa privata come dire andate pure avanti ragazzi lo dice appunto il sindaco di san donato milanese francesco square intervistato da sette giorni sul tema del nuovo stadio del milano sul progetto dello stadio riceviamo molte sollecitazioni sia dall'interno della maggioranza che dalle file dell'opposizione tutto ciò che contribuisce a dare risposte alla crescita del progetto e ciò che viene portato in termini propositivi è stato sempre ben accolto non sempre purtroppo osserviamo uno spirito propositivo da parte di chi pur all'opposizione riveste ruoli istituzionali ne prendiamo semplicemente atto ascolto sempre le critiche ai timori pensate quante pressioni ci possono essere nel farlo non farlo quante incidenze politiche il fatto che il milan voglia andare via da milano non è un fatto fino a se stesso noi abbiamo i soldi per poter fare lo stadio altri non lo so quindi vedremo se poi si cuciranno addosso come faceva totò un unico abito pensando che possa andare bene per tutte le feste quindi alla fine sarà molto complicato anche trattenere una sola squadra a milano però le parole dell'assessore per me sono state molto eloquenti per cui anche nella maniera più criptica però sono per me sono state eloquenti poi io sarà che ho frequentato la politica per molti anni solleggere tra le righe diciamo che fondamentalmente il fatto che il milan abbia scelto san donato li porta ad essere ricordati come l'amministrazione che ha perso la prima squadra di milano sulla seconda non mi sbilancio non mi interessa niente sinceramente potranno dare l'inter e l'altra gli arancioni la terza squadra e magari possano giocare loro e andiamo avanti le ci sono preoccupazioni è chiaro che ci sono preoccupazioni comprensibili legittime nella costruzione di questo progetto è giusto che avvenga una dialettica politica è evidente però che ci sia anche della speculazione politica da parte di chi oggi continua il sindaco spera di cavalcare un dissenso per un progetto su cui quando governava si dichiarava disponibile a valutarlo ma questa d'altro canto è la politica con lo stadio si svilupperebbe un'idea che porterebbe ad un prestigio e forte centralità non solo per la città di san donato ma per tutto il sud di milano questo dal punto di vista delle aspettative del territorio rappresenta un enorme vantaggio inoltre si svilupperà un sistema del trasporto pubblico più efficiente insomma si stanno risolvendo i problemi anche quelli relativa ai parcheggi del progetto ipotizzato sulle aree del pasm adesso non sto ad entrare come dire nel 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 nelle singole particelle del progetto l'amministrazione ritiene che per rendere percorribile il progetto debbano essere attivati interventi che garantiscano il raggiungimento di tutte queste criticità allora qual è il passo avanti il passo avanti è che quando un sindaco si espone in maniera così palese palese cioè dicendo si contro tutto e contro tutti ci sono tutti i presupposti tutte le criticità vanno discusse chiaro che devo usare un po di politichese e vanno affrontate arrivando al punto cioè quello di dare soluzioni è chiaro che c'è qualcosa che non sappiamo ma che appare palese in questa in questa intervista che ha sì del politichese ma fino a un certo punto io credo che dalle parole del sindaco di milano al progetto we build che non è piaciuto al fatto che poi i concerti non si potranno fare già l'organizzatore dei concerti a san si era detto va bene scordatevi tutto non esiste al fatto che comunque anche non venga presa in considerazione un'ipotesi ormai sfumata di revisione ristrutturazione pre vincolo di 70 anni questo ci sembra tutto così chiaro ed evidente che mi chiedo io ma perché fare tutto questo progetto we build pensando a come preservare il secondo anello perché sotto legida della sovrintendenza visto nel 2025 saranno trascorsi 70 anni dal termine dell'ultima ristrutturazione che è venuta tra il 53 il 55 e aver perso cinque anni a chiacchierare senza fare nulla quando avremmo potuto buttarlo giù tirare su ristrutturare e ripeto in quel video ho detto in un periodo terribile maledetto che non accada mai più come quello del covid ma che se una cosa buona e metto diecimila virgolette aveva e che lo stadio poteva non aveva tifosi quindi a quel punto milan e inter avrebbero potuto giocare anche al parcheggio avrebbero potuto giocare a monza avrebbero potuto giocare a como e la ristrutturazione con due anni la fai eppure quel periodo che è vero non è preventivabile un covid una pandemia però il barcellona che voleva fare la ristrutturazione quando ha visto che non ci sarebbero stati tifosi per un anno un anno e mezzo ha iniziato ha detto via partiamo oggi in un anno e mezzo hanno rifatto lo stadio va bene complimenti al sindaco al sindaco squeri perché spero di averlo citato bene perché oggettivamente si squeri francesco squeri perché sta dando un grande supporto a questo progetto e soprattutto ci racconta molto più di quanto non faccia la nostra dirigenza di come stanno andando le cose come sempre vi teniamo informati passetto dopo passetto e arriveremo insieme a magari godere finalmente di una struttura senza quei fastidiosi cuginastri ciao ragazzi a dopo ciao